Oh, stamattina mi sono svegliato, c'è un dilemma che mi affligge, primo bottone allacciato o slacciato? Non so, mi fa più santo col bottoncino allacciato, lo so che forse è fuori moda ma mi vedo più da scolaretto, un po' la Simone Amsim, un po' come l'uomo, fatemelo sapere come devo stare col bottoncino, mi uccido, slacciato forse, forse sì, vabbè, ok, primo video di giornata, ecco perché do i numeri, nel primo video do sempre i numeri, c'è sempre quella fase un pochettino, Vabbè, torniamo a parlare di Nainggolan, torniamo a parlare di Nainggolan perché poi ieri, appena lo si era accostato alla Samp, cioè abbiamo appurato quell'interesse doriano, dopo è arrivata subito una notizia più calorosa se vogliamo, un ritorno in patria di Nainggolan, ritorno al Cagliari e a questo proposito vi esorto anche a passare dal mio amico Andrea Mre, tifoso cagliaritano, video in collaborazione con lui, dove appunto il ragazzo si è già espresso su Nainggolan, ha fatto una live un'ora, quindi c'è tanta roba, c'è tanta canna al fuoco, se volete appunto conoscere il suo pensiero da tifoso cagliaritano appunto passateci, vi metto il link in descrizione, guardate la live, è interessante, interessante perché si concentra su molti aspetti, però adesso vi dico la mia giustamente da tifoso interista che è tutto un altro dire, ok la Samp metà ingaggio pagato da noi si vociferava, qui facciamo un passavanti, qui facciamo un grandissimo passavanti, perché qui si parla che il Cagliari non ci dà una mazza per Nainggolan, il prestito che non ci dà una mazza, però almeno ci paga l'ingaggio, cazzo, mica male, affare, affarone, ovviamente quando tu vai a mettere giocatori come Cagliari, come Nainggolan, li metti sul mercato, è ovvio che, poi il prezzo non lo fai tu, il prezzo lo fa l'acquirente, cioè c'è poco da fare, però ragazzi miei, con tutto il rispetto per Sampetoria, con Cagliari, che loro giustamente guardano i propri interessi, e poi, parliamoci chiaro, sono società che non è che possono andare a spendere chissà quali follie per determinati giocatori, già prendi il Cagliari, ti paga 4 milioni e mezzo, perché, ricordiamo che i Cardi Nainggolan, tra l'altro, sono i giocatori che hanno lo stipendio più corposo, 4 milioni e mezzo a stagione, ragazzi, almeno se non mi sono perso qualcosa, 4 milioni e mezzo a stagione, i due giocatori praticamente fuori rosa, però, ragazzi, io dico, qua all'inizio si parlava di interregolare forte, vi ricordate, vogliamo un interregolare forte, ma qua siamo sempre più pazzi, almeno a livello dirigenziale, abbiamo iniziato questo nuovo percorso, da pazzi, da pazzi furiosi, da pazzi furiosi, perché già tu parti con i botti, con i Cardi e Nainggolan fuori dal progetto, e questa è già una scelta scellerata, attenzione, attenzione, in che senso scellerata? Cioè, non c'era bisogno di, è sempre lo stesso discorso, non c'era bisogno di proclamarlo, di buttarlo lì ai 720, non c'era nessun bisogno, poi è vero con i fatti, non li conosciamo, ma tu intanto Nainggolan e i Cardi, te li portavi in Cina, eh, li facevi anche giocare, ho capito che poi i tifosi ti rompono le scatole se vai a vendere, ma comunque c'hai quella metà dei tifosi che i Cardi non lo tollerano più, stessa cosa su Nainggolan, cioè, te li portavi, te li facevi giocare, il prezzo magari li evitavano, eh, la trovavi qualche offerta, ma adesso veramente ci siamo ridotti, ci siamo ridotti al punto che, pur di levarci un giocatore, lo dobbiamo dar via in prestito gratis, eh, che il prestito mi va benissimo, ma almeno se ci fosse un obbligo di riscatto, cioè, se ci fosse dietro qualcosa, sai che facciamo? Cioè, Nainggolan lo diamo in prestito e poi ce lo ritroviamo, l'anno prossimo nelle stesse, siamo di nuovo nella merda, siamo di nuovo nelle stesse condizioni, cioè, che facciamo qua? Stiamo parlando di Nainggolan, quindi io ritengo veramente questa gestione in uscita davvero davvero sbagliata dell'Inter, stiamo lavorando ma, ma veramente, veramente male, cioè, proprio male, ma non lo dico io, cioè, lo dico nei fatti, siamo al 26 di luglio, ok, sarà presto, ma non abbiamo piazzato un giocatore in uscita, cioè, e le voci di mercato che balzano fuori, non è che sono poi così incentivanti, eh, non è che mi aiutano a pensare che sia solo una fase transitoria del mercato in uscita, assolutamente no, e poi ricordiamo bene gli stessi sfoghi di Conte, segno che da questo punto di vista ragazzi, noi non ci siamo, eh, non ci siamo proprio, eh, non ci siamo proprio, eh, poi un'altra cosa sulla questione Nainggolan va rimarcata, si parla che lui vuole andare al Cagliari, ok, non è proprio la mera verità, la realtà dei fatti che lui vuole rimanere, cioè, leggendo qua e là, sì, sì, sono queste le notizie che si riportano, eh, Nainggolan vuole rimanere, il problema è che l'Inter è intransigente, su questo punto posso essere anche d'accordo con la società nell'azzurra, però, boh, però le cose non vanno, cioè, le cose non funzionano, è abbastanza evidente, se ti riduci, se poi magari queste sono solo voci, non lo so, ma se ti ridurrai, cioè, a svendere, non che a svendere, qui stiamo parlando proprio di regalare i giocatori che, che dovevano essere quegli uomini di punta, almeno negli anni passati, se tu ti ritrovi a svenderli, a regalarli a zero, eh, per poi ritrovarteli di nuovo comunque in casa, secondo me, secondo me, non va bene, secondo me, c'è qualcosa che non ha funzionato, c'è qualcosa che non sta, non sta girando bene, secondo me, almeno, almeno in uscita, ripeto, almeno in uscita, siamo in difficoltà, cioè, mi rifaccio, mi rifaccio veramente alla parola di Conte, siamo in difficoltà, lo so che verrò attaccato come al solito, sei sempre percepito, ok, va bene, però devo dire quello che penso, io penso che uno squadro come l'Inter al 26 di luglio si è ritrovato ancora in casa un sacco di giocatori fuori dal progetto, giocatori che tu esplicitamente hai detto proprio, che non ci servo, che devono andare via, quindi, difficile piazzarli anche come si deve questi giocatori, per cui, sono, sono, sono un po' titubante, un po' scettico, lo ammetto, vabbè, questo è il mio pensiero, fatemi sapere cosa ne pensate voi, quindi commentate, likeate, iscrivetevi al canale, din din din, attivando la campanellina, un grande abbraccio, da Neschio. Grazie. Grazie.